Sinergie Moderne Network ha organizzato con la media partnership di Made in Italy, trasmissione televisiva dedicata all'innovazione, un workshop di aggiornamento tecnico sugli ultimi ritrovati e le tecnologie più innovative delle migliori aziende nel campo del risparmio energetico. Nearly Zero Energy Building, questo è il titolo del seminario. Nel contesto di Klimhaus 2012 a Bolzano e presso il Four Seasons Hotel durante tutto il giorno si sono alternati molti relatori e l'occasione è stata importante per il numerosissimo pubblico, oltre 1700 accreditati e più di 900 partecipanti per avere un quadro più completo della direzione verso la quale il mondo delle costruzioni e risparmio energetico avanzato sta andando. L'azienda è la ditta Damiani Holtz Co.SPA con il marchio Ligno Alp per gli edifici in legno, dove come edifici in legno noi intendiamo sia delle strutture unifamiliare fino alle strutture multipiano o a strutture pubbliche come possono essere asili e scuole. Realizziamo edifici in legno multipiano che negli ultimi anni stanno avendo veramente un grosso boom, ci vuole un grosso know-how per farli, però ormai si è arrivati a dimensioni di multipiano molto elevati, ormai si parla anche di 8-9 piani, infatti a Milano si realizza il primo housing sociale di 9 piani e si sta già parlando anche di 14-15 piani, per cui diciamo che gli edifici in legno stanno entrando anche nel settore diciamo di edilizia molto ampia. Penso che il nostro settore è il settore che nelle costruzioni che sicuramente avrà più futuro, perché noi lavoriamo solo con materiali ecosostenibili, per cui con materiali che oggi il mercato richiede, per cui materiali naturali con ambienti molto confortevoli e materiali che oltre ad essere naturali sono anche riciclabili, per cui con il passo dei tempi, per cui materiali che avranno futuro nei prossimi anni.